Eccoci alla lettura dei verdetti, dei punteggi, dei tre giudici 145 a 142 3 punti di vantaggio hanno dato tutti e tre i giudici il verdetto unanime per Jimmy Powell quindi Jimmy Powell, 26enne pugile di colore di Detroit si conferma campione mondiale dei pesi leggeri versione IBF battendo ai punti, ai 15 riprese Daryl Tyson è tutto da Detroit, linea allo studio di Roma Grande box da Detroit Sabato Sport è andato oltre al tempo che ci era consentito ci affettiamo pertanto a concludere ricordando che a Zeltweg Theo Fabi ha conquistato la pole position nelle prove per il Gran Premio d'Austria in programma domani e che Rai 2 trasmetterà in diretta dalle 14.15 con Fabi in prima fila anche l'altro pilota della Benetton BMW l'austriaco Berger quarto tempo per Riccardo Patrese con la Brabham BMW accanto alla McLaren di Rosberg a Saint Vincent Simone Colombo si è guadagnato un posto per la finale di domani nel torneo internazionale di tennis e infine lo abbiamo appena visto da Detroit Jimmy Powell si è confermato nel titolo mondiale dei pesi leggeri versione IBF prima di concludere due notizie a Madrid nel torneo di pallanuoto dei mondiali l'Italia ricordiamo imbattuta dopo tre partite ha superato Israele per 7 a 5 e infine a Las Legnas in Argentina la seconda discesa libera maschile valida per la Coppa del Mondo di Ski è stata vinta nel pomeriggio da Pirmin Zurbriggen che ha preceduto l'austriaco Stock primo degli italiani al nono posto Cigolla prossimi appuntamenti per lo sport su Rai 2 tra un'ora circa alle 18.30 sport sera quindi alle 20.20 TG2 lo sport e infine alle 23.45 notte sport con pole position e l'altra semifinale del torneo internazionale di tennis di Saint Vincent buon pomeriggio, buon proseguimento di serata a voi tutti un cordiale ringraziamento e l'altra semifinale del torneo internazionale di tennis di Saint Vincent ス 소리 Sì 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 Grazie.